È giusto difendere la natura, è giusto difendere l'ambino. ...fragassa col quale i carabinieri forestali e noi in particolare abbiamo una grande collaborazione. Un saluto a questa comunità di Sabaudia alla quale siamo legati perché abbiamo tantissime iniziative che sono ormai tradizionali qui su questo territorio, dai nostri reointe che istituti della biodiversità al Palazzo dell'ONU dove abbiamo avuto l'Italia, ha avuto un successo strepitoso proprio perché il patrimonio ambientale di questo paese è un patrimonio straordinario, un patrimonio che va assolutamente tutelato. Abbiamo avuto un grande successo, ci sono stati 186 rappresentanti di altrettanti paesi di tutto il mondo che sono venuti a condividere non solo l'ottimo rinfresco che ci ha offerto Italy, che è stato molto apprezzato, ma anche tutto quello che questo paese riesce a mettere in campo. Le condizioni di questo paese, le condizioni di questo paese in titolo alla missione ambientalista del vecchio corpo forestale dello Stato e grazie a questa unione che è stata un'unione forse anche casuale, forse dettata da esigenze di carattere pratico, economico, nessuno, tant'è che come diciamo i francesi, la gendarmerie, i francesi sappiamo bene che senso identitario hanno e che orgoglio nazionalismo. Anche lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale si basa su cosa? Si basa essenzialmente su un monitoramento rispetto ad un evento meteorologico che può essere avverso oppure no a secondo del territorio dove si fa. La media, la temperatura media nel Mediterraneo ha già superato i due minuti.